Con Mr. Zanuttig, Lumignac batte l'Imperia, sbanca il ciccione. Una gran partita da parte vostra, mister. Sì, penso proprio di sì. Ora ammarico che abbiamo avuto due o tre situazioni al primo tempo che potevamo metterla dentro e forse per il ritorno il discorso era leggermente diverso. Comunque l'Imperia è una grande squadra, ha fatto una grassissima gara, però non gli abbiamo concesso poco e niente se non sbaglio, forse una mezza occasione alla fine del primo tempo, un ritorno a livello di mischi e di cose, ma di azioni pericolose non è che ne abbiamo subite tantissime. La squadra è stata brava, sapevamo il tipo di partita che dovevamo fare, non è che potevamo pensare di venire qua a fare chissà grande cose. Siamo stati compatti, siamo stati bravi, soprattutto in questo periodo della stagione, dopo un campionato importante, dal punto di vista fisico qualcosa lo devi concedere. Comunque sono veramente contento. Mister, sarà comunque decisiva fra sette giorni, partita tutta da vivere? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il primo tempo è andato a noi, adesso c'è il secondo, però bisogna recuperare bene, il viaggio è tanto lungo. e quindi un po' i ragazzi di secondo tempo eravamo un po' tutti in difficoltà perché tante otto o nove ore di viaggio ieri, meno male le paghi e quindi poi anche il tempo caldo, insomma comunque sono contento e ce la giochiamo domenica prossima.